Concludiamo questo modulo didattico vedendo gli operatori predefiniti da Prolog per effettuare le operazioni aritmetiche fondamentali, per lanciare funzioni matematiche e per effettuare le operazioni di confronto. Il Prolog di suo non è altro che un Tier Improver, per cui se noi lanciassimo il goal x uguale 1 più 2, quello che succederebbe è che il Prolog farebbe partire la procedura associata all'operatore uguale che abbiamo visto nella logica, che fa il matching, che è qualcosa di simile all'unificazione fra il matching, fra le due sottoespressioni che compaiono a sinistra e a destra dell'operatore di uguale. Quindi ciò che fa il Prolog è semplicemente restituisce la risposta calcolata che a x associa l'espressione 1 più 2. Questa frustrazione la possiamo superare scrivendo al posto dell'uguale is. Is è un operatore predefinito del Prolog che deroga rispetto al normale funzionamento del Prolog, inteso come Tier Improver, e quello che fa è prendere la sottoespressione che ha la sua destra, che si intende sia composta di operatori o funzioni aritmetiche, quindi si ha una espressione aritmetica, e lancia un programma che sarà una funzione booleana che restituirà vero o falso, a seconda se il risultato sarà un risultato effettivamente calcolabile o meno, e nel caso che il risultato è un risultato calcolabile, restituirà il risultato dell'operazione stessa, come vediamo nell'esempio che abbiamo appena avanciato. Quindi in pratica is è un operatore a cui viene associato un programma e quindi rappresenta un attachment procedurale. E quindi deve però essere il predicato is utilizzato quando, ripeto, alla sua destra c'ha un'espressione aritmetica effettivamente calcolabile, e quindi non ci possono essere variabili. Per esempio, se io mettessi una variabile al posto di uno dei due argomenti dell'operatore, mi darebbe errore, is, perché dice che appunto gli argomenti non sono sufficientemente istanziati. Dal manuale del Prolog, consultando l'Help, potete vedere, potete imparare a conoscere tutti gli operatori aritmetici predefiniti del linguaggio stesso, che lavorano sia con numeri interi che con numeri reali. Secondo, l'implementazione utilizza gli standard che sono noti per quanto riguarda sia la rappresentazione degli interi, che vengono rappresentati in complemento 2 e i reali, che vengono rappresentati secondo lo standard A3754. Facciamo degli esempi. Vediamo lo sguai prolog a riprese con gli esempi che sono nel libro del professor Bratko. Vedete che siamo anche quindi in grado di valutare, da questi esempi, l'approssimazione. Qui abbiamo che 11 diviso 3 ha restituito il numero reale, perché abbiamo utilizzato, per effettuare la divisione, la slash normale. Se invece prendiamo il doppio, abbiamo come risultato il quotiente intero. Con il mod, invece, andiamo a prendere il resto della divisione intera. E altre funzioni da rette mediche le potete andare a vedere all'interno del manuale del prologue. Oltre alle funzioni da rette mediche, ci sono i sei normali operatori di confronto. Sono simili a quelli che avete imparato dal C, a parte gli ultimi due, dove l'uguale è un doppio uguale, sì, ma con i due punti al centro e il diverso ha invece lo slash al centro. Quindi possiamo anche fare degli esempi. Ci chiediamo se 315 per 3 è maggiore o uguale a 250 per 4. Non è vero. E, ok, se no, attenzione, non possiamo utilizzare questi qui come equazioni, ovviamente, o disequazioni. Al solito, non possiamo mettere a destra dell'operatore di confronto una variabile e non la possiamo mettere neanche a sinistra. Quello che possiamo fare adesso è un esempio dove viene utilizzata la list per andare a calcolare la lunghezza di una lista. Potete farlo a modo esercizio, però intanto qui lo guardiamo. Per calcolare la lunghezza di una lista si può utilizzare una clausola, un predicato che ha due clausole e la seconda dei quali è una clausola ricorsiva. Chiaramente non possiamo non esaminare, non scorrere tutta la lista e quindi ci vorrà un predicato ricorsivo. Possiamo non farlo per calcolare la lunghezza. Comunque la clausola, il tappo della ricorsione sarà ovviamente la lunghezza della lista vuota è 0. Dopodiché la lunghezza di una lista non vuota vi ricordo che la notazione l'avete visto negli esercizi la notazione testa-coda non può unificare con la lista vuota quindi la notazione testa-coda presuppone che ci sia almeno un elemento all'interno della lista che verrà verrà unificato con la testa della lista e la coda eventualmente verrebbe unificata con la lista vuota. Quindi la notazione testa-coda ripeto non può unificare con la lista vuota. Dicevo una lista non vuota avrà una lunghezza n se essendo n0 la lunghezza della coda n è n0 più 1 provate a implementare questo predicato sul vostro prologue fateci delle degli esercizi lanciate al 3 se vi rendete conto di come lavora questo predicato. Qui adesso il professor prologue ci chiede nella seconda clausola può essere invertito l'ordine dei goal ci ragionate magari un attimo ma chiaramente la risposta è no per quale motivo perché n0 deve essere distanziato per poter comparire a destra di un is e quindi ha bisogno che la procedura ricossiva length lo istanzi se mettessimo prima questo atom qui avremmo che n0 nel momento in cui viene lanciato questo atom come goal sarebbe non istanziato l'is farebbe partire un procedural attachment dove qui c'è una variabile che non ha un valore e quindi non potrebbe calcolare il risultato dell'espressione quindi la risposta a questa domanda è no con questo chiudiamo questa unità didattica e chiudiamo anche il modulo didattico che è stato dedicato alle liste agli operatori e all'eritmetica a voi adesso esercitarvi con questi concetti per approfondire la conoscenza e per acquisire dimestichezza con la programmazione delle liste soprattutto con la definizione degli operatori e con l'eritmetica semplicemente si tratta di conoscere quelle che sono le operatori e le funzioni eritmetiche preimplementate all'interno del prorogue conoscenza conoscenza conoscenza